Il giocatore ti entra così, si chiama Messi, si chiama come si chiama, non può entrare centralmente. Però la verità è che questo qua ha delle qualità incredibili. I giocatori sono messi male, che non ti può entrare centralmente. Il giocatore che porta a palla e fa scambio praticamente centrale non ti può entrare mai centralmente. Ma è proprio la WC della... Il giocatore verticalmente. Beh, chiede triagno la compagna e poi il giocatore è entrato centralmente. È entrato centralmente, cioè a mezzo in due centrali.